e buongiorno e buona domenica amici di matto scacco è iniziato un torneo che tutti stavamo aspettando il Tata Steel Chess Master 2023 guardiamo un po' chi sono i partecipanti gente vedete che se non ha 2700 punti non è stata ammessa praticamente Karsen, Ding Liren, Fabiano Caruana, Giri, So, Rapport, Aronian, Gukesh, Abdusattarov eccetera eccetera Jordan, Van Forest, Pragnanda, quella gente lì insomma c'è stato il primo turno ieri c'è stato il primo turno vediamo come sono andati i risultati è un girone all'italiana, si sfidano, hanno 14 turni, sono tutti contro tutti e attualmente questa è la classifica primo posto Ding, secondo Abdusattarov, terzo Karsen quindi gli unici che hanno portato a casa una vittoria sono stati proprio Ding e Abdusattarov dopodiché tutti gli altri hanno pattato quindi attualmente capolista sono questi due con un punto tutti gli altri in mezzo punto ovviamente siamo solo all'inizio ci sono ancora altre 13 partite quindi è tutto da vedere la partita che più mi ha sorpreso che vorrei oggi sottoporvi è stata proprio quella di Ding Liren che ricordiamo sarà il futuro sfidante per il titolo mondiale che giocherà contro Nepo. Allora qui Ding gioca con il nero possiamo vedere 2811 punti contro 2725 di Qcash qui abbiamo anche il tempo 1 ora e 40 1 ora e 40 affinché puoi anche farti un'idea di quanto hanno ragionato su ogni mossa andiamo a vedere D4 cavallo F6 C4 E6 cavallo F3 B6 e ora G3 si entra in una catalana e come difesa è una sorta di est indiana e qui subito novità l'alfiere anziché viene essere posizionato in fianchetto viene posizionato in A6 per disturbare subito questo pedone in C4 lo si può difendere con donna C2 o con pedone B3 in questo caso viene scelta pedone B3 probabilmente l'idea è quella di mettere in futuro l'alfiere in fianchetto per attaccare l'avversario ma questa prossima mossa fa scacco e invita subito a prendere dei provvedimenti l'unica accettabile è alfiere D2 ma il fatto che l'alfiere venga messo in D2 vuol dire che non potrà più andare in B2 non solo in genere nella catalana D2 è il posto preferito per il cavallo quindi questo scacco che sembra inutile perché adesso il nero deve ritirarsi in realtà ha delle sottili ragioni posizionali alfiere G2 a rocco corto a rocco corto D5 cavallo C3 e ora C6 la struttura è solida, valutazione del motore è una posizione piuttosto pari e adesso bisogna completare lo sviluppo questo alfiere in D2 sicuramente è poco attivo quindi viene messo in F4 cavallo B di E7, anche il nero cerca di portare fuori tutti i pezzi e ora C per D e adesso ti faccio una domanda con cosa cattureresti? Abbiamo tre possibilità il pedone in C6, il pedone in E6 o il cavallo? pensaci due secondi e poi dammi la risposta probabilmente ti piaceva la cattura di cavallo che ne dici? Attacchi anche l'alfiere, non è male e infatti è la mossa suggerita dal motore ma non è stata quella giocata allora probabilmente ti piaceva C per D5 cosa te ne pare? Struttura bella solda ma non è stata quella giocata in partita è stata giocata E per D5 è una mossa questa al di fuori della mia concezione e sicuramente avrà ragione lui se ha più di mille punti in più di me ha ragione lui però faccio fatica a capirla se voi riuscite a capirla scrivetela per favore qui sotto nei commenti perché dalle mie conoscenze qui si viene a creare un pedone in retrato è una struttura difficile da giocare è difficile, è difficile non l'ho capita non l'ho capita ma sicuramente avrà il suo senso nonostante appunto anche il motore avrebbe preferito la cattura di cavallo o la cattura con il pedone C comunque cattura in E per D5 e adesso il piano è ovviamente quello di fare pressione sul pedone C6 arretrato quindi probabilmente in un futuro torre C1 per scoraggiare le eventuali spinte e soprattutto adesso inizia il piano cavallo E1 per andare D3 dove da D3 andrà a controllare le fortissime case C5 e E5 anche se questo piano al motore non piace torre E8 cavallo D3 e ora cavallo F8 anche Ding vuole rimanovrare il proprio cavallo per andare a rompere le scatole sul centro dove ci sono degli attacchi importanti attenzione che il pedone sarebbe indifeso ma l'alfiere inizierebbe a non avere più case dove andare quindi cosa fa Gukes? dice senti se ora mi arriva il cavallo in E6 mi attacca l'alfiere questo alfiere non sa più dove andare o lo metto in una posizione passiva come E3 ma poi mi arriva magari anche il cavallo qui c'ho paura che questo alfiere venga perso e quindi decidi di giocare giustamente alfiere G5 così dopo cavallo E6 e così che va in partita cambio di alfiere e almeno quell'alfiere non è più un problema però c'è ora un altro problema doppio attacco sul punto D4 e quindi E3 importantissima e attenzione adesso arriva una mossa queste mosse sembrano una posizione comunque abbastanza tranquilla è tagliente ma comunque è abbastanza tranquilla e ora arriva attenzione cavallo C5 cavallo C5 doppi attacchi su questo cavallo e ovviamente se sposti il cavallo perdi la torre e quindi l'unica è quella che viene giocata in partita D per C5 alfiere per C3 torre per C1 e ora donna F6 sviluppando gratis un pezzo e dando un occhio al proprio alfiere che è attaccato dalla torre donna C2 aumentano gli attacchi su questo alfiere e D4 per tenere l'alfiere C per B6 A per B6 torre in F va in D1 e torre in A va in D8 la posizione è leggermente favorevole al nero qui a lato puoi vedere questa barra di valutazione se la barra è più colorata di nero vantaggio al nero se la barra è più colorata di bianco vantaggio al bianco e per D4 alfiere per D4 e ora la posizione del nero non è niente male ci sono vari obiettivi d'attacco ci può essere per esempio il fortissimo punto target F2 dove la donna e l'alfiere attaccano su questo punto quindi è una situazione veramente interessante bisogna vedere se poi riusciremo a attaccare su F4 cavallo F4 viene giocata tanto che è rimasto il target su F2 vediamo se riusciamo a toglierlo ok cavallo F4 G5 e ora questo cavallo fa fatica a capire dove andare perché queste case sono abbastanza minate H3 sarebbe un po' troppo passivo cavallo in H5 dove si attacca la donna la donna va in H6 attaccando il cavallo e ora ultima difesa è alfiere F3 per tenere il cavallo C5 attenzione che in nero la coppia di alfiere questi alfieri sono fastidiosissimi questo alfiere in futuro potrà riposizionarsi andare su questa importantissima diagonale e a un certo punto G4 per slegare l'alfiere dal compito di tenere il cavallo ma ora si è indebolita questa diagonale quindi un piano per Ding Li-Ren potrebbe essere quello di attaccare appunto sulla diagonale scura adesso arriva F5 F5 è una di quelle mosse che veramente veramente ci piacciono da morire perché ci piace perché è un gambetto a tutti gli effetti con cosa si può catturare si poteva catturare questo pedone con la donna in partita non è andata così ma per esempio su donna che cosa sarebbe mai potuto accadere questa mossa avrebbe permesso di riattivare gratuitamente l'alfiere e ci potrebbero essere state rotture di scatola allora questa donna per esempio se ne sarebbe dovuta andare dopo torre F8 inizia veramente coordinazioni micidiali quindi onde evitare tutto ciò Gukesh che comunque è una persona che ha un po' di sale in testa dice senti io quel pedone non l'accetterò mai cavallo G3 e ora segue F per G4 e prima della ricattura intermedia cavallo F5 attacco su donna donna F6 e attenzione che non segue la ricattura ma qui perché l'alfiere non è andato a catturare perché su questa semplice ricattura e questo è da pensare avrebbe permesso al nero di riposizionare il suo alfiere sulla diagonale quindi il nostro alfiere avrebbe perso il controllo sulla diagonale H1 a 8 e avrebbe ceduto poi la diagonale all'avversario per esempio sulla mossa qualsiasi dopo ci sono combinazioni devastanti da parte del nero ecco perché l'alfiere bianco non può mai lasciare quella diagonale quindi abbiamo detto che in partita è andata così e alfiere 4 quindi non si prende questo pedone perché l'alfiere deve rimanere su quella diagonale H5 ora arrivano tutti i pedoni del nero all'attacco B4 Re F8 forse il computer dice che era meglio Re H8 Re F8 A3 A4 e ora su una mossa normalissima come torre 1 da parte del bianco guarda cosa succede alla barra di valutazione tutta a favore del nero quindi trovami la mossa che fa vincere il nero ti lascio qualche secondo ok se siete riuscito a vederla la mossa è signori torre per E4 torre per E4 due punti esclamativi ovviamente questa torre si può ricatturare sia di donna che di torre vediamo cosa succede sulla cattura di torre tu dici beh sulla cattura di torre magari mi prendo due pezzi no no perché a parte che c'erano gli scacchi di scoperta e perdi la donna ma c'è alfiere d3 tu dici come fai a vedere queste mosse in partita non lo so le vedono alfiere d3 e ora su cattura di donna c'è alfiere per f2 e perdi la donna alla prossima interessante vero che ne dici e quindi in partita viene giocata donna per E4 ma c'è ancora sempre la carinissima alfiere d3 ovviamente questo alfiere non si può catturare per il motivo visto prima ossia alfiere f2 scacco poi perdi la donna ma questo alfiere crea una doppia minaccia poi anche sul cavolo f5 quindi ora la donna se ne deve andare ma il cavolo f5 è sempre in presa quindi ora cambio di donne e poi alfiere per f5 siamo in un finale dove il nero ha un pedone in più ma ha i due alfiere per una torre e i due alfiere per una torre 99 su 100 sono sempre più forti quindi ora Gukash giustamente prova a giocare disperato per la forza della disperazione ma si può poco g3 inchiodatura sul pedone f2 ho le h per g per e dopo b per c5 arriva alfiere h3 e arriva l'abbandono a parte di Gukash il re praticamente non può muoversi da nessuna parte non riuscirà ad entrare in gioco e la partita è finita la barra di valutazione è meno 7 per il nero è stata una bellissima partita finita in solo 38 mosse e il grande campione d'Ingli Rennes ha dimostrato ha dimostrato veramente tutto il suo potere d'attacco e vincere un torneo di questo tipo contro un 2725 col nero poi non è niente male noi ci vediamo domani e continueremo a seguire da vicino questo torneo si spera più in tempo reale possibile e ci vediamo alla prossima ciao amici